Ehi laggiù, sentite me, non fate niente, perché niente è importante, se venite con me, non perdetevi, meglio non tardate, no, correte a sentire quello che vi dirò. Ehi, che nostalgia non ritrovarla più, la nostra ragazza è arrivata laggiù, ma se voi mi ascoltate la vedrete tornare, sì, leggera sulle ali del tempo, volando sulle note di un canto. Cullata dai ricordi che ha dentro, sì, signori adesso eccola qui.